Denaro, corruzione, immigrazione. Sono stati questi temi al centro del discorso che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla Conferenza Internazionale delle Associazioni di Imprenditori Cattolici. Nel lungo discorso pronunciato in spagnolo, il Pontefice ha nuovamente richiamato l'importanza della recuperare il senso sociale delle attività finanziarie e bancarie, valorizzando meglio l'intelligenza e l'inventiva degli imprenditori. Il credito dovrebbe essere accessibile alle famiglie, alle piccole e medie imprese, agli agricoltori, perché il denaro deve servire e non governare, essendo un semplice strumento di intermediazione. Richiamando anche le parole dei suoi predecessori, Papa Bergoglio ha poi messo a fuoco un secondo rischio, quello dell'onestà, in un mondo dove la corruzione è la peggior piaga sociale. La corruzione, generata dal culto del denaro, rappresenta una frode alla democrazia e apre la porta ad altri mali terribili come la droga, la prostituzione, la tratta, la schiavitù, il traffico di organi e il traffico di armi. Ricordando la figura dell'imprenditore argentino Enrique Shaw, uno dei fondatori dell'UNIAPAC, di cui d'arcivescovo di Buenos Aires ha promosso la causa di beatificazione, Papa Francesco ha infine toccato il tema della fraternità connesso alle migrazioni. La maggior parte delle persone, ha detto, provengono da famiglie di migranti. Oggi questo drammatico problema umano può diventare un fattore di sviluppo. Ogni attività umana può essere espressione di misericordia che rappresenta la partecipazione all'amore di Dio per gli uomini.